Benvenuti in un nuovo video, finalmente eccoci qua con un video con mia sorella, ci tenevo a scusarmi per se vedete ogni tanto il verde e che raga io non so, a volte si vede, a volte no, tra poco mi faccio le lentine quando registro così non vi do più fastidio con questa cosa del verde ma bando a queste cose, allora oggi siamo qui per fare una nuova challenge, sì è una challenge da bendata avete letto già il titolo, è una challenge che ha spopolato sul web qualche mesetto fa e non sulla, anche abbastanza vecchia come challenge però sinceramente è sempre bella vederla, nella quale ovviamente dobbiamo distinguere l'originale dalla sottomarca e quindi niente io, ah ci devo dire un'altra cosa, se questo video arriva perché lo so che può arrivare a 2000 like vi portiamo un altro video, sempre vi porto un altro video in compagnia con mia sorella sicuramente qualche altra cosa per cambiare anche un po', abbiamo il piattino io inizio, chi inizio? inizio tu? ok, vai quindi devo dire solo... vai aspetta, vabbè no me lo prendo io vai vabbè no no vai dimmi se vedi ok ok Biscotti Ok, vai Ma è sicura che non vedi? No Ok, vai No, assaggia pure l'altro Vabbè, secondo te No, non ci stanno i biscotti Secondo te Sottomarca E questo è l'altro Amore Quindi? Ciocco, macca Macca Sa te che me le dai e tutto Te le metto, metto delle a terra Viene mentre vi vendo No, sono contenta con questo video Mi piace un sacco Adesso è abbastanza facile Ok Ok Non li trovo? Aspetta, aspetta Vai, 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 vai Ma dove stanno? Sta qua Ok Questo non sa di niente Buono, non sa di niente È solo di cacao È solo di cacao Ho messo già l'altro Questo si sente proprio di dolce Di cacao Per me questo è l'originale E questo è il sottomarca Quale? Questa è la sottomarca Il primo E il secondo è l'originale Si è chiamato proprio No, ma si sente subito proprio Raga La sottomarca Oddio, sto ancora Sendo appannato Comunque ho fatto forse un macello Per dimostrare Vabbè raga Si capiva tantissimo Ma perché? La sottomarca Ma la sottomarca Il primo che ho saporato Che parla con la sottomarca Si sentiva solo di Ma proprio poco cacao Invece proprio quello PANDI STILLA Sento proprio di zucchero Di cacao Di biscotto PANDI STILLA Ok Io Adesso direi un attimo Ne beviamo un attimo E voi già starete vedendo Questo come Siamo uno a uno Ok Adesso Tutti bendi Ok Io questa non vedevo l'ora Di Di provare In cera Ma anche proprio per vedere Ma questo ho già in mano un odore Che mi capiva Che mi capiva Queste sono simili Queste ne possiamo aprire Pure direttamente uno Che dopo Raga Comunque le cose Si sono rimpicciolite Dopo che me lo fai a me Non lo metterai pure tu Allora questo non te lo faccio toccare Perché capisci subito A parte che Di come devo fare E quindi niente Te lo do io E vai Che cos'è Se non sei convinta Sotto morto Ma si capisce tantissimo Anche al tatto Perciò non te le faccio toccare Perché Si capisce subito Anche se non le prendiamo Da un sacco di tempo Però si capisce Non ci riuscivo Non ci riuscivo Un ragazzo Non ci riuscivo Si capisce Eppure non pensavo Lo sai Questo è Originale Si Hai ragione Molto molto ragione Anche se È diverso rispetto Ma se le vedi Guarda come sono Ma che sei Che ti pensavi che era Dicevo io Ma non erano così Ma che cosa Mi fanno Mi fanno Mi fanno Mi fanno Mi fanno Mi fanno Che si mangiava Lo secolo Andre Se lo mangiate Non ti piace Però guarda come sono Sono molto più piccole Io mi bendo Nel metro Per anche Per anche usare Le stesse Però mi racconto Eh però Ti giro Eh beh Fai come Già si capisce Eh ma Io non so Qual è Ah no Come fai Non sapere Qual è Ah ti prego Ok Questo è Ma il giocamento Bravo Questo è buono Però Devo provare Poi l'altro Poi Poi l'altro Perché Allora Però i sapore Sono molto simili Vabbè non lo so Ve lo giuro Eh ti volevo dare un indizio Che non puoi capire Ma No Non lo so Allora Mi butto veramente Ad indovinare Il primo All'originale E il secondo E la sottomarca Bravo Veramente E quello lo sai Mi piacevo di più il secondo No Devo mangiare il secondo La consistenza Quindi è indovinato Sì è indovinato Indominato Il primo era questo Però sono molto Simili Se stanno appannando Io Non è vero Espitare La differenza Io non mi sono accorta Ok Ok Devo vendare io Sì prego Grazie Mi ero abituato ormai A essere vendata Quindi Entrambi abbiamo vinto Vabbè Secondo me vinceremo Entrambi Forse devo fare La cosa di più difficile Eh tipo Tipo Non lo so Allora Non dire cose Sotto 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 Io non so Ma anche se si sta Vedendo tutto Al cento per cento Ok Secondo me Questo sarà Difficile Indovinare Perché Molti Mi hanno detto Sotto Non si sono L'oreo No? No? No Mai Anche Spizzare no 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 che sono proprio tu questo questo originale sotto marca però è stato semplice a dominarlo a me si stanno appanando tutti gli occhiali infatti tra poco si può mangiare più qui 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 Dove sei? Aspetta, sto pensando Sto pensando Vai Questa non è l'originale Assolutamente non sa di niente No A me non piacciono Ma in generale Però tra i due Andavo all'ultimo Non lo so, manco mi convince Non lo so Allora, la sensazione Il primo è sottomarca E il secondo originale Cioè, questo rende una cosa al colore Tutto il contrario Il primo era l'originale Non lo so Non mi hai fatto Non mi hai fatto a non accorto Non lo so A me a parte che in generale gli ori non mi piacciono Proprio partendo proprio dal generale Ho perso, quindi due Tre a due No, ma assolutamente no Non lo so Domani saremo in base di polmetto Ok, ultimo Ma mi dispiace Prego Vabbè Vabbè, veramente le prendo Mischio tutto Io sono curiosa di vedere la confezione Vai su Banda a te C'è anche l'omini E' Ma questo è l'ultimo? Sì Però devi vedere La prossima volta lo dobbiamo fare col salato Ragazzi io sono scioccata Piccoli che è sta cosa? Ma che cos'è? Mamma mia però Tu rimarrai scioccata dopo quando ti sbenderai Oh Oh è lui l'amore mio vai vai prossimo è in confusione no il primo è l'originale e il secondo è la sottomoda sei sicura? si si va bene sbendati è vero ma che resta cosa? ma che cos'è? infatti vabbè fai un po' di i tuoi... però pure l'originale è mod sei andata un po' in crisi? pure c'è il Fazer sei andata un po' in crisi? no appena l'ho provato però aspetta tu mi hai dato un pezzettino piccolo perché altrimenti... ok sgammami tutto tu no questo lo sapete che sembra sembra qui quei tipo di cose proteici che sono un po' di cartone ecco le gocce malissime brutte no senti pure l'alcol questo è l'originale questo è l'originale mi senti proprio la cuccia di cioccolato che è diverso che la fa? si sentiva alla fine l'alcol quando lo mangi si sentiva quando arriva via la cuccia oppure si è mangiato oddio no comunque io mi devo dare un altro morsetto di questo ho vinto io mi sento mi sento il genere è la sottomarca ma non è la sottomarca questa questa è la sottomarca e questa è l'originale che cazzo è una è l'oro sbagliato perché ho? è l'oro sbagliato forse è l'oro sbagliato io ero convinta che questa fosse l'originale e questa è l'originale e questa è l'originale no che fosse la finta allora ci deve essere tempo nella cosa come fai? infatti ho detto ma l'hanno fatta più piccola quindi ho sbagliato no a special dobbiamo dire perché no mi immagino le persone tipo che si sono fermate mi hanno detto ma questa che ha confinato? eh perché non l'ho aperto ma adesso lo teniamo qua mi ha fatto confuso perché poi non me l'hai detto che questa è originale quindi tu hai indovinato allora sei sicuro? io ho sbagliato perché tu avevi detto che ma ricordo mai l'ing raga questo video è erbico ma già sta casami vabbè però questi video sono belli anche per questo ma io se non devo mucire ero convinta che questa infatti ho detto ma ma però non l'hai mai vista non ci hai mai mangiato non me le ricordavo proprio va bene quindi questo video ovvio questo video deve arrivare per forza a duemila like ma per forza proprio ci deve sempre stare qualcosa nei nostri video e va bene raga io spero che questo video vi sia piaciuto sempre comico e noi siamo due pazze e noi ci vediamo nel prossimo video ciao